La degradazione dell'ambiente e la perdita della biodiversità sono le minacce più gravi dei nostri tempi ed è quindi necessario formare una generazione di professionisti in grado di gestire tale minaccia sia dal punto di vista ambientale che economico. Mi chiamo Stefania Stolfi e sono il presidente del corso di laurea magistrale in conservazione e restauro dell'ambiente e delle foreste, un corso che è stato progettato per formare studenti e futuri professionisti in grado di comprendere da ogni punto di vista il valore inestimabile della natura che ci circonda. Il corso è stato progettato per fornire soluzioni efficaci al problema della conservazione e restauro delle risorse naturali e forestali, unendo le discipline biologico-ambientali alle moderne tecniche progettuali. Obiettivo del corso è far acquisire allo studente una spiccata capacità applicativa per l'esecuzione di progetti e lavori di ricostituzione boschiva ed ingegneria forestale, per la protezione del suolo e delle sorgenti, per la sistemazione dei versanti e delle sponde fluviali, per la prevenzione e il contenimento dei processi di degradazione del territorio e per tutta quella serie di interventi rivolti al restauro forestale. Per quanto riguarda gli sbocchi professionali, la formazione legata al mondo del lavoro sarà sempre più centrale in Italia nei prossimi anni, non solo per spingere la ripresa economica e produttiva, ma anche per aggredire la disoccupazione. Le stime dell'ultimo report di Union Camere riportano che entro il 2023 le imprese italiane e la pubblica amministrazione ricercheranno più di 500.000 lavoratori con competenze green legate all'ecosostenibilità ed in grado di cogliere al meglio le opportunità offerte dall'economia circolare. In questo contesto, CRAF contribuisce a formare, nell'ambito delle professioni intellettuali scientifiche con elevata specializzazione, laureati specialisti nelle scienze della vita. Vi dà qualche numero sul corso. La durata del corso di laurea è di due anni e abbiamo 12 esami per un totale di 100 CFU, 4 CFU sono dedicati al tirocinio e 16 CFU sono dedicati alla preparazione della tesi di laurea. Il tutto è organizzato in due curriculum diversi. Il primo è denominato conservazione e monitoraggio della biodiversità, il secondo invece restauro e gestione dell'ambiente. Tutto questo e tanto altro è quello che vi offre il corso in conservazione e restauro dell'ambiente e delle foreste. Ti aspettiamo in aula!